In questa edizione del TG8. Giacomo Dalista Iti, al vertice di Solstatt. Donna scomparsa a Salemi, trovate tracce di sangue in casa, si ipotizza l'omicidio. Amministrative 2019. Vede i carabinieri, scappa con la sua ape car, si ribalta e viene arrestato per possesso di droga. Protagonista un alcamese di 39 anni, Andrea Cataldo, disoccupato con precedenti di polizia per reati in materia. Lo scorso 15 febbraio, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Alcamo, durante un servizio di controllo del territorio, in via commendatore Vito Nino Navarra, hanno intimato l'Alt, lo conducente di un ape car, che alla vista delle forze dell'ordine non si fermava ed è fuggito. In prossimità della via Leone XIII, però probabilmente a causa della forte velocità, il conducente dell'ape car ha perso il controllo del mezzo, che si è ribaltato andando a sbattere contro un'autovettura parcheggiata a bordo della strada. I carabinieri hanno prestato i soccorsi e, cercando di raddrizzare il mezzo ribaltatosi, hanno notato fuoriuscita dall'abitacolo un involucro che il fuggitivo tentava immediatamente di allontanare, calciandolo sotto un'altra vettura coinvolta nell'incidente. Controllando l'involucro, i carabinieri hanno scoperto che lo stesso conteneva più di 200 grammi di marijuana. Cataldo, con un'ambulanza del 118, è stato portato all'ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo ed è stato piantonato. Perquisendo l'abitazione dello spacciatore, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e il materiale per il confezionamento delle dosi. Cataldo, una volta dimesso dal nosocomio alcamese, con tre giorni di prognosi, è stato accompagnato presso la compagnia dei carabinieri di Alcamo e successivamente, su disposizione dell'autorità giudiziaria, condotto presso la casa circondariale di Trapani in attesa dell'udienza di convalida. Rubano in una farmacia tre profumi di Via Vittorio Emanuele a Castelvetrano. Si tratta di Alex Cain Canet, di 18 anni, e Tambong Gomez, di 19 anni, entrambi provenienti dal Gambia. I due hanno rubato profumi del valore commerciale di 123 euro che sono stati riconsegnati alla farmacia. Dopo le formalità di rito e su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 18enne è stato portato nel carcere di Trapani, mentre il 19enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale dei carabinieri di Trapani. Il giudice ha disposto per Gomez l'obbligo di firma. Intimidazione all'imprenditore trapanese Giacomo Dalista Iti, al vertice di Sosalt e di Atisale, con sedi oltre che in Sicilia anche in Sardegna e in Puglia. Alcuni colpi di pistola sono stati esplosi contro l'auto dell'uomo mercoledì scorso. L'intimidazione è avvenuta in Puglia, mentre stava percorrendo la strada provinciale che collega Barletta con Margherita di Savoia. La sua auto è stata affiancata da un'altra vettura, da cui sono partiti alcuni colpi di fucile verso i pneumatici. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. Secondo l'imprenditore, l'intimidazione non sarebbe da collegare al clima di incertezza sull'acquisizione della società. E' un clima iperteso, non voglio collegare le due cose, ma c'è un clima di incertezza. Siamo vicini al collega e amico Giacomo Dalista Iti per l'inquietante vicenda di questa auto-bittima, afferma il presidente di Sicindustria Trapani, Gregori, buongiorno. La scelta di fare l'imprenditore e giunge buongiorno è già difficile a causa dei mille ostacoli che si incontrano quotidianamente. In questo contesto il peso della criminalità organizzata è davvero un fardello che non si può sopportare. Il collega Giacomo Dalista Iti, che è anche vicepresidente di Sicindustria Trapani, oggi si trova ad affrontare un grave attacco intimidatorio, ma potrà contare oltre che sul supporto fondamentale delle forze dell'ordine anche sulla nostra vicinanza e solidarietà. So bene cosa significhi ribellarsi ai condizionamenti malavitosi e per questo conclude saremo al fianco di Giacomo con una determinazione ancora più grande. La procura di Marsala ha aperto un fascicolo per l'omicidio contro i gnoti per la scomparsa da Salemi della 48enne Angela Stefani. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo, coordinati dal procuratore Vincenzo Pantaleo, hanno apposto i sigilli alla casa dove la donna viveva con il convivente Vincenzo Caradonna, per evitare che vengano alterate, disperse o distrutte eventuali tracce in casa. Infatti sono state rinvenute delle tracce di sangue nell'appartamento dove la donna viveva da circa tre anni con Caradonna. Idea Sicilia si prepara alla prossima amministrativa anche a Mazzara del Vallo. Un gruppo di giovani, molti dei quali provenienti dai comuni percorsi universitari, hanno deciso di aderire al movimento fondato da Roberto Lagalla. Alla guida come coordinatore del movimento per la città di Mazzara ci sarà Alessandro Norrito, un giovane laureato che ha già ricoperto ruoli istituzionali all'interno del Consiglio Comunale. Da oggi la mazzarese avvocato Giulia Ferro è il nuovo coordinatore provinciale eletta per acclamazione. Presenti al congresso tenutesi a Trapani sabato con circa 500 tesserati, anche se su base provinciale il totale ammonta un totale di 750. La delegazione mazzarese Orgoglio e Futuro, Giustino Blandi, ha presenziato con 80 tesserati. Presenti Antonino Asaro, Vito e Gaspare Clemenze, Aurelio Norrito e Giuseppe Aleo. Troingargiola rassegna le sue dimissioni da Presidente della Quinta Commissione Consiliare con un comunicato inviato al Presidente del Consiglio di Mazzara. Con la presente rassegno le mie dimissioni da Presidente della Quinta Commissione Consiliare con decorrenza immediata. La Commissione da me presieduta non è mai stata coinvolta in nessuna manifestazione o altro, perché il tutto veniva svolto con metodi antidemocratici che non appartengono al mio modo di fare politica. Sulla scelta del candidato sindaco Benedetta Corrao si frattura l'asse centrodestra. Liste civiche. Secondo indiscrezioni, il motivo della frattura politica è stata la scelta del nominativo del candidato sindaco Benedetta Corrao, ex assessore comunale dell'Aggiunta Maccadino. Deciso e proposto solo ed esclusivamente dalle tre forze politiche e non condiviso dalle tre liste civiche che avrebbero gradito scegliere con collegialità e convergere tutti uniti verso un nominativo condiviso da tutti. Da premettere che ufficialmente il raggruppamento del centrodestra allo stato attuale non ha ufficializzato la scelta del candidato sindaco Benedetta Corrao. I rumors dicono che dovrebbe essere definitiva. A questo punto si potrebbe verificare che le liste civiche potrebbero confluire e rafforzare qualche altro già annunciato candidato sindaco o addirittura esprimere un proprio nominativo e correre da soli alle imminenti amministrative del 28 aprile. Sì certo, una nuova avventura dopo tanti anni un ritorno alla politica attiva assieme a Nicola Cristardi che è stato un mio grande mentore dal punto di vista politico fin dai primi anni della mia attività in politica. Il ritorno con piacere sono lusingato per questa nomina che il primo cittadino e il sindaco Cristardi mi hanno voluto conferire. Ho detto cittadino di buon grado perché credo che bisogna dare un contributo alla città nel momento in cui il sindaco chiama qualsiasi cittadino per contribuire all'amministrazione della città. Io mi auguro che questo possa essere diciamo utile a tutta l'amministrazione comunale e alla città di Manzara del Vallo affinché ci possa essere anche un preseguo per il futuro e continuare l'opera che già è stata iniziata dal sindaco Cristardi perché i progetti che lui ha portato avanti e che sicuramente sarà in grado di portare avanti sono dei progetti utili e è molto importante per la nostra città. Calcio eccellenza girone A ventiduesima giornata risultati e classifica Cus Palermo Alba Alcamo 0 a 2 Canicattì Castelbuono 2 a 0 Castellammare città di Sant'Agato 0 a 2 Dattilo Noir Mussomeli 3 a 2 Geraci Parmonval 1 a 1 Caccamo Mazzara 0 a 3 Profavara Partinica Audaci 4 a 1 Marsala 1912 Licata 0 a 3 La classifica vede il Licata 58 punti Canicattì 52 Sant'Agata 45 Dattilo Noir 40 Mazzara Parmonval 37 Geraci 32 Profavara 31 Alcamo 29 Castellammare 28 Mussomeli 26 Marsala 1912 20 punti Cus Palermo 17 Caccamo 15 Partinica Audaci 11 Castelbuono 6 punti Prossimo turno ventitresima giornata domenica 24 febbraio Alcamo Caccamo Castelbuono Cus Palermo Licata Castellammare Mazzara Marsala 1912 Mussomeli Profavara Parmonval Dattilo Noir Partinica Audaci Canicattì Sant'Agata Geraci Grazie a tutti